Dopo il video cataclisma fluviale siamo sul Torrente Nervia per vedere cosa è rimasto quella apertura che dal bar a onda là giù in fondo ha aperto tutto il letto del fiume, tutto il fronte, e anche qui come Neroia ha fatto una diga che, come dicevo ha fatto una diga, adesso andiamo sopra a vedere un po' com'è, c'è tutta la, i detriti ancora, però c'è di buono che il mare ha macinato tutto e i detriti sono rimasti veramente un 30% del centro che erano prima. Abbiamo un aiuto, poi ci saranno tutti i ragazzi che verranno a aiutare, comunque è che qui hanno bruciato tutto quello che c'era sopra il molo qui dei pescatori. qui abbiamo una specie di lago che ha formato e da questa parte abbiamo il mare e qui questa penisola è il torrente che va giù in fondo, andiamo fino giù in fondo un attimo. qui il mare che ogni tanto viene sul fiume, ed ecco l'uscita del torrente là giù in fondo. ed ecco l'ha fatto la classica penisoletta da un lato e dall'altro, ed esce lì. una volta l'uscita come è sul Roya era qua, ma qua c'è troppo materiale non è più possibile. per il momento è tutto. Qui siamo davanti al Piscione, zona Nerdia di Emilia e pare che ci sia un tesoro che qui tutti questi, chiamiamo gli angeli o Don Quixote, io direi angeli. Stanno cercando di mettere a posto. Adesso andiamo giù e vediamo di cosa si tratta, cos'è sto tesoro che stanno tutte queste persone cercando così allegramente e vivamente. Adesso andiamo giù. Abbiamo pure la protezione civile, abbiamo il benestare del comune, perché oramai senza permessi, senza niente non si può fare niente. A cosa andiamo così a vedere i ragazzi? vedo questa bellissima... Oh, buongiorno! Ciao! Vedo che usi sto rastrello in modo professionale. Ma sei venuto solo a riprendere? Sì, perché io mi sono imboscato dietro a una telecamera. Capisci? Vabbè, fai qualcosa di... Sì, rendo pubblico... Ma il tesoro dove sta qua? Perché so che state cercando un tesoro. Stiamo cercando un tesoro, mica per altro. Perché? Devo chiedere agli altri mentre tu sei in tenta qui a zappare? Certo, chiedi. Va bene. E' uno dei dirigenti? No, 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 no. Schiavetto. Ah, schiavetto. Sembra che poi mi aumentano la qualifica. Ah, ho capito. Ma sto tesoro che qui state cercando, che cos'è? Non mi rispondono. Stiamo cercando un buon senso. Il buon senso. Il buon senso che si è perso? Questo mi piace. Adesso chiedo anche agli altri. Allora, questo tesoro che cercate è il tema di questa... Vedo che tutti qua state cercando un tesoro, che spostate, fate. Eh sì, stiamo raccogliendo la differenziata, le plastiche, tutta questa roba. E poi ve la vendete? Eh no, la vendiamo. Purtroppo, speriamo che arrivi la DOCS Lanterna a ritirarla. Ah, ecco, speriamo pure. Noi la mucchiamo solo, dividiamo plastiche, ferro e tutto. Cosa che non potrebbero mai fare. Ha visto che bella iniziativa, quanta gente c'è? Sì, sì. E' uno spettacolo vedere tutte queste persone. È vero, è vero. Sto guardando che anche laggiù il Nervi ha fatto, come Roia, la foce tutta verso est. Ma tutti questi sacchetti a cosa servono? Non te lo dico. Perché? Dai dicelo dai. Ma perché pare che ci sia un tesoro qua. Sì, di Rumenta. Ah, di Rumenta. Ma non è l'amicizia, la cosa che si instaura così, i rapporti con altra gente. Vedo che ci sono anche... è una straniera lei? No, sono la straniera. Ah, anche lei? Eh, è strano. Beh, qui abbiamo di tutto praticamente, gomme, plastiche. Quindi fate la differenziata. Sì, per quelli che non la fai non la facciamo. Ah, ecco. Beh, magari tante cose sono rimaste lì, che si sono portate via, che magari... Potremmo fare una bella legge che evitasse questa roba qua. Vedete? Sì, polistirolo. Vedete il polistirolo? Ecco. Questo è indistruttibile. Sì. Perché i pesci, questo diventano palline, quindi idroscopiche, finiscono in acqua. Ma questo è interessante. E poi te lo mangi, e poi quando te lo metti in pente, lo beranzino, fa la diossina, e tu te lo mangi, e poi dici c'è un po' di bruciore di stomaco. Ecco qui. Beh, questa è una cosa molto intelligente che stai dicendo. No, no. Perché a titolo informativo non so in quanti lo sappiano. Basterebbe solo una legge, basterebbe solo fare una legge che dicesse. Il polistirolo per il contenitore... Ma anche informare, perché sai di leggi qua c'è talmente tante che per la fine nessuno ne guarda più. Se la maggior parte di questa roba qua, chi è che la fa la fine di mare? Sì. È proprio il peschereccio. Perché questi polistirecci utilizzano le casse di polistirolo per i contenitore del pesce. Quando gli si rompe una cassa la buttano in acqua. Ho capito. Allora tu dovresti fermare i pescherecci, quelli che hanno... Purtroppo in acqua internazionale non lo puoi fare, però almeno nel tuo territorio dici... Se vedo qualcuno con le casse di polistirolo non ci vai con le casse di polistirolo. Ho capito. Poi con le casse di plastica. Perché vedi la plastica la recuperi, perché vedi... Si, si può anche riciclare. Il pesce non se la mangia. Ma questo il pesce se la mangia. Sì. E quindi bisognerebbe vietarlo veramente. La scuola. Tu basta che vai laggiù. Tu basta che vai laggiù. Tu basta che vai laggiù. E' un'intervista lì. No. Si. Perché no? Di qualcosa che è di intelligente. No. Tu vai laggiù guarda. Vai laggiù. Butta l'altra camera per terra. Lui lo sta dicendo. E tu vedrai. Questi sono i pezzi più grossi che abbiamo preso. Si. I pezzi più piccoli. Io non li prendo. Certo si sono persi. Si sono dispersi. Ma la macinatura delle onde che fa il mare sulla spiaggia non le distrugge. Si le distrugge ma ti faccio vedere. Se vuoi venire a vedere. Si si. Questo è un bel discorso. Mi piace. Ciao. Si. Assurdo. E' assurdo. E' assurdo. Vedi? Si. Vedi cosa succede? Succede questo. Praticamente queste palline sono anche quelle che mettono nel terreno. per... No no no. Questo è polistirolo. Si si ma di polistirolo per rendere soffice il terreno. No non credo. Non lo so. Si si no te lo dico io. Lo so. L'ho già visto. Soprattutto in Francia lo usano. Si riducono così. Si. Poi il pesce... Mettilo qua che forse non si vede perché... Guarda. Questi diventano così. Perché vedi come diventa. Si sbriciola il polistirolo. Il mare lo sbriciola. Si. E il pesce lo mangia. Esatto. Poi ti mangi il pesce. Quindi anche il pesce fresco può avere... In teoria eh. No in teoria. In pratica. Perché poi se lo mangia. Si. Quando c'è lo sporco così sicuramente allora. Il mare ci istituisce solo quello che non ci buttiamo dentro. Ok. Adesso andiamo avanti dai. Non facciamo sempre cose negative. Madonna. Io sono per le cose positive ma qui... Se ce ne fosse lo sarei anch'io per le cose positive. Si. Va bene adesso vediamo. Per la cosa pulmolo. No non lo sapevo. E' per quello che stai raccogliendo queste gomme. E' da 10 minuti che la portiamo un po'. Ah ecco. Oh buongiorno ma lei lo incontro sempre eh. Comunque se è recchio considero e uno qui uno storico gommista della zona. Allora cosa stai facendo tu raccogli anche tu polistirolo? Io raccoglio tutto tutto. Ah tu raccogli di tutto ma lo separi? Poi faccio il triascio là c'è. Ho capito. Così non mi fermo a pareggia. Comunque sarete un centinaio, vedo. 60. No, io 70 l'ho contato, sono arrivati degli altri. E probabilmente non arriveranno degli altri. Abbiamo anche il tagliatore di legno. Insomma, si sono organizzati bene. Grazie. Ci siamo. Allora ci stanno le donne due di una volta. Quest'anno le ci sono. Io vedo bella tosti. Bella tosti. Poi non vedevo l'ora di ritornare così alla riaperta. Un anno che sto in tabatteria. Ah, perché una volta facevi questo lavoro? La giardiniera. Ah, bellissimo. Adesso sono tornata un po', sempre col magaglio. Ma tu lo facevi la giardiniera per cosa? Perché ti piaceva stare con i fiori? Per amore. Perché ti piaceva stare con i fiori? Con i fiori. Ah, ecco. Per amore, diciamo. Per la professione. Ho capito. Bene. Grazie. Adesso andiamo più in là. Oh, ciao. Vedo che state cercando un tesoro anche voi. Cos'è sto tesoro? Noi ci annoiamo in settimana, no? Allora la domenica mattina vediamo a fare questo così. Ah, vabbè, ma vedo che è tutta con allegria, con amicizia, piacevolmente. Ma le cose si fanno o con allegria e non ci fanno. Esatto. Bene, adesso andiamo avanti. Ciao, ciao. C'è anche lei, signora? Buongiorno. Buongiorno. Ci sono pure me. Le piace? Eh, beh, non mi piace tanto quello che c'è sulla spiaggia. Eh, vabbè, vediamo di dare una mano allora, dai. Eh, aiutiamo un po'. Grazie. Sì. Ma lei cosa sta cercando, signora? Le cose piccole si rimangono, io le passo. Ah, ho capito. Ma vedo che ognuno ha un piccolo tesoro che sta cercando. Ognuno ha qualcosa di diverso. No, stiamo raccogliendo l'alluminio e il metallo e la plastica. Ho capito. Ok, e poi tutto il resto, poi se ci sono plastiche grosse, le utilizziamo. Ho capito. Grazie. Vedo che state cercando l'oro con sto rastrello. Ciao. Cosa fate? Cosa fate? Un po' d'oro. Eh, andiamo a fare. Come le cose preziose vedo che ce ne sono, no, non tantissime. Un sacchetto basterà, dici? Ma non credo, sai. Non ce la rivendiamo. Ah, si rivendiamo in pratica questa roba. Ah, non lo ributtate in acqua, benissimo. Eh, eh. Qui veramente giovanissimi. Ti volevo chiedere una cosa. Ma questi tesori che state cercando, che cosa sono? Polistirolo, plastica, alluminio. E vieni più vicino che non si sente. E poi cosa ne fate? Polistirolo. E poi viene il compattatore, lo compatta e lo porta in scarica. Ah. Stiamo facendo questo lavoro. La differenziata è che non possono fare loro con le ruspe? Eh, sì, perché sarebbe stato costosissimo farlo con, diciamo... Ce non l'avrebbero mai fatto, via. Sì, sarebbe... E così anche farlo manualmente, se non potevamo... Cioè, è impossibile. Ho capito. Visto che sono dieci anni che passavano questa pulizia, ci hanno dato... D'altro due signore di nostra conoscenza. Va bene, dai. Sono di Iene? Sì, siamo... Voi veramente le Iene siete voi, eh? Io sono un misero operatore. Dottoriamo e siamo... Documentarista. Ok. Iene del lavoro, no? Iene del lavoro. Voi volete dirci qualcosa? Vi piace questo lavoro o no? Vedo che c'è una storia di qui. Si fa sentire utile. Si fa sentire utile, ma si fa anche nuove amicizie, no? Si unisce un po', si coagula un po' l'amicizia fra la gente che magari si conosce solamente di vista, no? Eh, beh, per adesso non tanto. Siamo più nel gruppo che già ci viene, il fratello, l'amico. Ah, ho capito. Adesso vediamo. Quindi è una cosa che si farà in tutte le spiagge? Sì, certo. Ah, bello. Quattro settimane, diciamo. Il grande blu ha organizzato. Ah. Bene. Ciao. Allora anche tu stai riempendo il sacchetto. Vai. Anche laggiù. Ma non sembra, piano piano, si raccoglie di roba. Qui abbiamo un nostro amico, un attore famoso di Guerra Stellari. Pino, ma sti tesori che state cercando, che vedo tutti con i sacchetti che... Eh, dobbiamo cercare i tesori per fare appunto un altro film. Con i soldi che accumulate qua? Sì, guarda, è fantastico. Siamo tutti dei bei, bei volontari perché in queste circostanze penso che la gente si muova. Sì, è vero. Ciao, devo lavorare. Hai ragione. Ciao. Lei è dalla protezione civile? Sì. Ci dica qualcosa? Come è la protezione civile? Guardi, parli con il cappoccio. Ah, ci abbiamo anche qua. Sergio. Sergio, ce la fai o no? La voglia. Ah, ce la fai. Ci sono più vecchietto qua. Vuol dire, eh? Ah, che sei anche molto tosto, vuol dire. Andiamo anche a Reva. Perché di là sono... Perché sei... Oh, cazzo, scattuato. Sto scattuato. Hai fatto la battuta? Ti baserebbe. Ma che pezzi di macchine vanno per la maggiore, eh? Sono famosi? O ce ne sono di più? No, no. Secondo me ci troviamo attaccati anche l'autista, prima o poi. Ah, ecco. Perché sono stata abbandonata, non credo. Ma toco, quello lì da dove arriva? Dai Caraibi è arrivato. Ma adesso che te lo mettiamo. Quello lì? Sì. E va bene, lo prenderà una ruspa, dai. Spero che intervengano, no? Con le ruspe. Spero di là sta fatta. Mi stanno in bilato, perché non c'è la Covid. Penso che ti stai riposando di qualcosa. Ma in questo momento mi devi prendere. Sì. Ma le 9 che sono fatti, sono le 10 e mezza. Vabbè, un'ora e mezza comunque non avete fatta di roba. Ma ci va, dai, una sigaretta. Non è che sei lavori a cotti, ma lavori e... Ma allora mi stavi dicendo che non ti immaginavi tutta questa gente che venisse. Mi ha piacere per un sacco di giovani. Sì. Sono più vecchi sicuramente, insieme alle mie amiche. Sì. Però... Comunque grazie ai social network, guarda che la voce si sparge, si uniscono le amicizie che amare di persone che per tanti anni non si vedono. E poi quando si fanno queste cose, magari... Non pensavo che a Ventimiglia ci fosse questo... Sì, ma guarda che la Ventimiglia è una delle città più amate. Sì, ma ne parliamo sempre male. No, non è vero. Io ne parlo sempre bene. I video che ho fatto io ne parlo sempre bene. E basta. Perché il parlare male è sempre la tecnica che fanno i giornalisti. E molti mi ascolteranno qua perché sono anche i miei amici. E la tecnica per vendere i giornali. Parlandone male. Così uno si infoga e va a vedere. Tu non puoi infognare un popolo, una civiltà, un paese, una città... Beh, ma guarda lo fanno tutto, in tutti i paesi, in tutti i livelli. È proprio la tecnica. Non dovrebbero smettere. Peccato che c'è il vento, guarda. Mi prende un po' il vento, guarda. Sta uscendo il vento. No, è molto distante. Sì, comunque è vero, laggiù in fondo ha la cosa. Sì, è vero. Laggiù in fondo, in fondo. Vabbè, ma voi non avete di questi problemi, dai. No, sono forti. Giovani e forti. Grazie. Ciao, buon lavoro. Ma allora, è contenta delle persone? Sono contentissima, tutti insieme appassionatamente, sesso dalle distinzioni di sesso, colore e razza. È vero, è vero. Ho visto anche due persone straniere. Questo mi piace. Anche lei. Ah, ciao. Scusa, col cappello non ti riconoscevo. Sono minimizzato. Scusa. Bene, vi ringrazio. Ci risentiamo più tardi e ci vediamo più tardi. E non stai bene a ripresa? Anche tu hai lavorato, no? Eh sì, vabbè. Ti stai cambiando, alleggerendo? Eri troppo pesante? Troppo, troppo. Fa caldo, meno male. Ok, ciao. Ciao, buona giornata. Grazie. Come parlavamo con l'amica, è arrivato il vento, che non è certamente d'aiuto. Comunque vedo che sono aumentati anche qui i nostri cercatori. Emiliano, ma cosa stai facendo? Vedo che qui stai cercando anche tu qualcosa. C'abbiamo anche il tuo cane come protezione civile. E allora cosa stai facendo? Cosa cercate? Sto tesoro, sto tesoro. Mi chiamo il polistirolo. Ma di, ma sto tesoro, dai, spiegatemi sto tesoro, guarda. Tutti polistirolo. Polistirolo, il personale di polistirolo. Riprendi sto combattimento, Franco. No, no, ma che si mangia, che solo mangia, magari. No, è bravo, dai. Si conosca. Ok. Emiliano, non ho mai risposto. Non ho mai risposto. Eh. Ah, rumeno, ma non è oro allora. No, no, no. È come l'oro. In questo caso qua è prezioso allora. È prezioso. Ah, bravo. Con la carriola che va avanti e indietro. Comunque ragazzi. Come stavi dicendo, scusa, hai detto comunque ragazzi. Siamo dei grandi. Bravo, bravo. Tra 20 media facciamo questo e altro. E infatti ti sto riprendendo, vi sto documentando apposta. C'è anche il metallo? C'è anche il metallo? Qui col trofeo. Questo è il tuo trofeo allora? O come dicevano la signora Anneli, il mio tesoro. Il mio tesoro. Ah, ecco. Eh. Sei fiero, vedo. Bravo. Forse sono contento. Almeno si fa qualcosa. Sì. Ma tu stai cercando qualcosa di farmaceutico? O no? Tutto quello che trovo. Ah, tutto quello che trovo va bene. Signora, ma io devo dire una cosa. Ma la trovo dappertutto. Mi dica perché. Tutta questa energia che... La volontà che conta. Ah, è la volontà. Tutta questa energia che esprime. Il ritorno alla natura. Ah, ecco. È la cosa fondamentale nella vita. Ok. Eh, ma guardi che se continua così ci andremo tutti a zappare. Alla natura. Sì. Allo spazio naturale del ritorno. Sì. Ok. Sicuramente. C'abbiamo anche qualcuno che osserva, vedo. Che osserva. Guarda il lavoro degli altri. Eh, va bene, dai. È sempre piacevole. Va bene. Grazie. Ha fatto il vento. Vabbè, un po' di vento fa bene. Il vento tra i capelli è sempre molto poetico. È molto poetico. Ok. Giù abbiamo appena visto un infermiere che cercava qualcosa, ma vedo che anche dei grandi chirurghi cercano qualcosa. Cosa stai cercando? Hai riempito un sacco addirittura. E perché non è il terzo, questo ragazzo. C'è troppo, eh? Da darsi da fare, è qui. E all'inizio ho detto, dico qui, o sono degli angeli o sono dei Don Quixote. Tu cosa dici? Eh, sono dei Don Quixote. Beh, ci sono stato anch'io, se proprio te lo devo dire. Nel 67, perché abitavo a Genova, andavo a scuola lì. E' stata una bellissima esperienza. E mi sembra anche tu, né? Sì. Ah, quella dopo. Ho capito. Eh, va bene. Grazie. Come è bella? Sei messo l'età che tu? Ora siamo a fine giornata. I ragazzi sono già via da diverse ore. E questa è tutta la roba ammucchiata ogni due o trecento metri di raccolta. Vengo a usare un'altra. Adesso c'è ancora un'altra. Come vedete tutti, sono rimasti solamente il legno, che eventualmente si potrebbe anche bruciare, se non ci hanno i soldi per portarlo via. Con questo chiudo. Questo è il nostro tramonto di 20 miglia, che di scuola è il nostro tramonto. definito uno dei cinque titoli del mondo. Ti dedichiamo anche noi la chiusura di questo piccolo servizietto. Grazie. Grazie. E con questo tramonto in giallo. Arrivederci alle prossime tre domeniche. Grazie. 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 Grazie.